È stata un'annata spettacolare per me, per tutta la squadra, per tutta la società. Adesso, l'ho detto anche un po' di giorni fa, è facile parlare adesso del Teramo che era la strafavorita, però il 5 di settembre un po' di gente, non dico tanto, ma un po' di gente non era positiva ai nostri confronti, non credeva in noi e noi zitti, con umiltà, siamo andati avanti, abbiamo raggiunto un risultato importantissimo perché andare a vincere il campionato qui a Pescara, penso che due mesi fa, l'ho detto prima in passato, l'ho detto pure in passato, non se lo aspettava nessuno, neanche il più positivo di tifosi dei Romani, quindi abbiamo fatto una grande annata. Mister, a chi dedica questa vittoria di campionato? È normale che questa vittoria io la dedico alla mia famiglia, soprattutto a mia moglie, perché chi fa questo sport, chi fa l'allenatore, quando ci sono le cose belle sono tutti vicini all'allenatore, ai giocatori, quando ci sono le cose brutte, chi ci sta vicino sono solo i familiari, a mia moglie nell'ultimo anno mi è stata molto vicino, dedico questa vittoria a lei, alla mia famiglia, questa vittoria è merito di tutti, ci vengo a dirlo, è merito dei tifosi, perché dalla prima giornata ci sono stati sempre vicini, io non mi scordo mai la partita del Pianolalente, che dopo un pareggio col Pianolalente, dove in una piazza importantissima, non ci dimentichiamo che fino a due mesi prima della partita del Pianolalente, il termo faceva il derby con il Pescara, con tutto rispetto al Pianolalente, loro ci hanno fatto capire con quell'affetto, con quella dimostrazione di affetto, hanno fatto capire che tutto il campionato stavano sempre con noi, poi è merito della società, è merito dei giocatori, è merito anche dello staff tecnico, staff medico, dei magazziniere, anzi del magazziniere, perché penso che Mauro sia la persona più importante di una squadra di calcio, chi gioca a calcio sa che noi alla prima riunione che abbiamo fatto, il primo acquisto che abbiamo fatto fare, io e Paolo D'Ercole, alla società è stato il magazziniere, la società diceva perché il magazziniere, è la persona più importante che può servire una squadra di calcio, ecco l'azienda che quindiànhamo. Sì, pulita parlo parlo è